Ci siamo! Seconda parte dell'anniversario, finalmente on, ed abbiamo, come avrete visto sicuramente dalla live di ieri e soprattutto anche dalla reaction uscita dal canale, il buon Goku Super Saiyan 3 Dragon Fist, ormai confermatissimo, e uscito anche in-game. Questa qui è la Z Powerlist, ma io prima che me ne dimentichi, voglio ricordarvi che questa sera ci vediamo con tutta probabilità in live per continuare le pool, per continuare a giocare, per... vediamo un po' chi non lo so, onestamente, dipende pure come andranno queste pool, in tutta sincerità, anche perché in teoria dovrebbe esserci una terza parte, vediamo, vediamo. Per il resto, questa qui è la Z Powerlist, sicuramente mi soddisfa di più rispetto al banner di Goku Mui, su quello non c'è dubbio, però anche qui diciamo che non siamo andati proprio benissimo e manca un'unità tipo, che vi devo dico, già da quarto, manca un'unità come pensavo e speravo rinserissero qualcuno, tipo Bardak, insomma, quelli del nuovo anno, invece proprio per nulla. Detto questo, vabbè, inizio a perdere la voce, quindi alla grande, e mattina molto presto, perdonatemi le condizioni, ma ragazzi, non posso fare niente. Per il resto, Goku sembra fortissimo, Tapion anche sembra tanta tanta roba. Ragazzi miei, partiamo immediatamente, vi attivo anche il no skip, il no... come si chiama qui? Il no spoiler, eccolo qui, perfetto. Vado anche io ad inserirlo, questa è la prima multi da 300 e non ci interessa nulla, anche se devo disattivarmela anche da qui. Datemi un secondo, perfetto, vai. Lanciamo questa multi proprio incredibile. Guardate, ci faccio un affidamento su questa multi che non avete idea. Vediamo, eh. Ok. Non avevo dubbi, guarda. Non avevo alcun dubbio. Eh, ok, ok, ok. Vabbè, immaginate, immaginate LF Animation e io che svengo qui nella multi da 300, ok? Allora, vai, seconda, seconda, let's go, let's go, let's go. E vediamo un pochino cosa riuscita... Ok, Namek... Ah, allora, ricordiamo un po' le animazioni, perché... Eh, Vegeta Blue non è assolutamente LF garantita, cioè nuova LF garantita, quindi Goku terzo. Ok, perfetto, qui Goku ha vinto, quindi non ci ha messo, non ci ha dato nemmeno quel brivido. Eh, quindi Vegeta Blue non è assolutamente Goku garantito. Golden Freezer. Peccato non quello lì. Che sapete voi. Eh, Bardock Animation, Trunks Animation e tutto il resto non sono Goku garantito. Quindi, in teoria, esistono delle animazioni che ci danno Goku garantito? Eh, mi sa di no. Mi sa che non esistono. Oh mio Dio, ci dovrei pensare meglio, però ragazzi, è presto, è mattina molto presto. Non connetto, vi giuro veramente non connetto questa mattina. Vabbè, vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Anche se comunque mi sa che questo video ve lo farò uscire lo stesso in tarda mattinata. Eh, quindi, vabbè, uno spreco totale. Però, ve lo farò uscire probabilmente in tarda mattinata, perché oggi, in teoria, dovrebbe essere il primo giorno degli esami. Quindi, ragazzi, per chi ha avuto gli esami, per chi avrà ancora gli esami, nei prossimi giorni, buona fortuna veramente. E nulla, dai, 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 spaccate tutto, veramente. Allora, intanto, Machin Bu Good. Qui continuano le pull. Stiamo a trovare una fava. Manca una LF, però, tante sparking, effettivamente. Qualche animazioncina interessante. Vediamo. Manca Namba Wanda, già 14 stelle. Vediamo, speriamo di non fare, tra moltissime virgolette, la stessa fine del banner di Gokumui. Dove avevamo, praticamente, fatto il primo giro. No LF, ma anche il secondo giro. Ma non mi ricordo. Comunque, veramente, l'unica LF che trovai fu solo Gokumui. Basta. Ok. Questa qui cos'è? La Extreme? Non mi ricordo. Veramente, scusatemi. Stamattina, non con Nelto. Ok. Almeno, sparking c'è. È comunque un 20% rate, con doppie Z power. E, attenzione, ricordiamo che questa cosa è molto importante. E, soprattutto, se vedete che c'è una scadenza sul banner, probabilmente quella... Tipo, non lo so, non ci ho fatto caso, ma se dice che scade fra 15 giorni il banner, vedete che, in realtà, scade fra 15 giorni, probabilmente, il banner bonusato. E, cioè, il banner con Z power doppie, con 20% sparking rate, eccetera. Dopo che ho 15 giorni, probabilmente, la step up rimane sempre lì, mi sa. Un po' come... Oh, buono quel... Quel 13. Oh, cacciamene un paio perché mi servono a 14 stelle, assolutamente. Mi serve, cioè, l'ho inserito proprio in un team, attualmente, in cui mi serve a 14 stelle, assolutamente. Cacciami... Ah, ma quelli non stanno comunque a rate up a Z power doppie. Vabbè, cacciameli lo stesso, i 13 extreme, stai tranquillo. Allora, c'è lo blu. Fermi... Non ci esaltiamo, ma potrebbe essere la nostra prima LF. Certo, ce ne sono un po', eh? Ce ne sono un paio, però. Vediamo. No, bro, lì. Ah, però. Però. Ah, è vegeto, ok. Vabbè, vediamo. Comunque c'è il cielo. Comunque c'è il ghiacciaio. Vediamo. Non dico nulla. Non dico nulla. Non... Potrebbe... Potrebbe ancora esserci LF dentro, assolutamente. Eh... Già ti ho portato a 14 stelle, fratello mio, sei un grande, però basta adesso. Vabbè, a parte... A parte queste robe che io ho con le extreme. Vediamo. Mi aspettavo... L'animazione Legends Limited, sarò onesto con voi. Vabbè, gran peccato. Fake out. Buono, ma cosa fai? Fratello, ma cosa fai? Mi ha dato il... Mi ha dato il ghiacciaio senza nulla. Free. Mi ha dato il ghiacciaio senza nulla, non ci voglio credere. Va bene, va bene, va bene. Non dimordiamo. Mamma mia, ragazzi, faccio fatica pure a parlare, vi giuro. Non dimordiamo. Vado avanti dei level up, intanto. Ok. Carico Goku. Madonna, questo è in condizioni uscene proprio. Uscenissime, mio Dio. Mi sto vedendo solo ora. Allora, Tarle e Siro. Oh. Primo giro. No Goku terzo. E va bene. Ma manco Tapion. Aspettate. Ma manco Tapion, eh. E dovrebbe essere finito qui. Alla grande. Abbiamo fatto un primo giro proprio al bacio. Al bacio. Mr. Satan Nero, top meta. Signori, bellissimo sto primo giro. Devo essere onesto, mi è piaciuto proprio un botto. Allora, andiamoci subito a recuperare Ticket. Ve lo sapete, io vado di Ticket. Ok, Ticket è recuperato. Vediamo un pochino se riuscirà a portarci bene questo Ticket onzo. Vediamo. Questo scontro veramente inutilissimo. Quasi quasi l'avrei pure saltata l'animazione, ve lo dico. Va bene. Guarda, almeno un bel Tapione. Un bel Tapione e andiamo... Eh sì, vabbè, un bel culerone. Che non ci serveva per niente. Anzi, ci servirebbe proprio un bel culerone, sai. Ci servirebbe proprio adesso. Anche perché qua c'è il rischio di terza parte, quindi... Con Ultra, oltretutto, con Ultra. Quindi facciamo attenzione, facciamo veramente attenzione. Eh... Vai. Inizio secondo giro. Inizio secondo giro. Primo giro veramente da dimenticare. Totale. Totale. Solo Spark English e basta. Niente LF, niente proprio. Che poi a me tantissima roba dell'LF non serve. Che sta all'interno di sto bar. Eeeh. Eccolo, LF. LF ovviamente nel senso la LF di Goku Terzo, non... Che poi sì, c'è stato un po' di discussione sull'animazione riciclata. Eh... Devo dirvelo poi ripensandoci qualcosa. Effettivamente potevano farla un po' meglio. Potevano modificarla, assolutamente. Un gran peccato. Perché poi è andato soltanto modo di chiacchierare. Quello è il punto. Gran peccato, gran peccato. Secondo me avrebbero tanto bisogno di qualcuno che supervisioni, ma per bene. Qualcuno che supervisioni e che sia... Tanto, tanto legato a Dragon Ball in generale. Gran peccato. Oh, è legato anche alla community, perché no? Peccato, peccato. Perché sarebbe bastato veramente poco. Sono pochi freghi in me quella LF che non funziona e che è stata in realtà ripresa proprio dalle summon. È stata modificata pochissimissimo. Prisa full power. Magari avessero inserito il giallo, quello lì, LF. Ma avrebbero fatto un grosso favore, perché ce l'ho a 5 stelle fake. Quindi, pensate voi. Ok? Belle sti multi, però, eh. Devo dire la verità. Belle sti multi. Non so perché mi si è aperto il cosino del coin. Dai, 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 dai. Almeno un LF, giusto per dire... Ale, l'abbiamo trovata. Cioè, un LF, almeno. Allora, se dovesse vincere lui lo scontro, io schippo direttamente, tanto è inutile. Vediamo. Ok, vai Goku, grandissimo. Alla grande. Sei sempre il top, grazie mille per questo sogno che non ci hai regalato. E non ci hai regalato. Perché tu non capisci che da Super Saiyan Blue bisogna perdere, non bisogna vincere gli scontri. Basil. Ok, c'è un'altra Sparking, comunque. Vediamo. Vediamo. Ok. Me la dà in fake out. Vediamo. Goku terzo. Goku terzo kid. Eeeh! Tapion, così ne ho aspettato. Hai visto che potevi perdere tranquillamente, Goku? Oh, Goku. Potevi perdere proprio con la massima tranquillità di questo mondo. Tapion, va bene. Ah, ecco. Questa è una bella cosa, vedete? Un bel Goku terzo 14 stelle. Sì, voilà. Goku Blue potevi perdere tutta la vita. Guarda, non avresti fatto nulla di sbagliato. Tapion almeno, dai, buono. Vediamo, vediamo. Ancora 0 LF, però Tapion almeno. Però è una cosa importante. Paradossalmente, se non sbaglio, da Goku Mui. Avevo trovato Goku Mui, ma non avevo trovato Vegeta. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Tapion, mo damme pure Goku terzo. E si vola. Si vola. Si vola. Si vola veramente. Te lo dico, eh, Legends. Starless. Voliamo, eh. Zenkai? Che già abbiamo a 14 stelle probabilmente da tre anni, ma va bene. No, in realtà non lo so, sapete? Sapete che potrebbe pure non esserci il... Tapion, un'altra volta. C'è posto o sta? C'è posto o sta? Questo qui serve... Questo qui ha stelle alte, raga. Va bene. Va bene Tapion. Va benissimo, benissimo. Ce lo prendiamo. Non ce l'avevo a 14 stelle, piccolo. 6 stelle, va bene. Va bene. Guarda, se troviamo pure qualche altro Tapionetto... Andiamo bene, te lo dico. Andiamo molto d'accordo, Yeti Legends. Certo, vorremmo pure un Goku terzo. Vabbè, Veggie, grandissimi. Grazie. Grazie per questa fantastica animazione. Sparking. Ancora 0 LF intanto, però, eh. Non ve lo volevo dire. Anche perché io voglio chiudere gli occhi. Ecco! Non so manco cosa dice in realtà Goku, sapete? Nell'animazione della LF. Cioè, nell'animazione di uscita dalle summon. Non ne ho idea. Broly, ok. Mi sa che è andata a 14 stelle. Allora, prendiamoci il ticket. Prendiamoci il ticket tozzo. Eh, quella situazione la vedo... Non possiamo prenderci il ticket in realtà. Stavo scherzando. La situazione non la vedo proprio di quelle incredibilissime. Però vediamo. C'è lo rosso. Questa è la ripartenza del giro, vero? Schippiamo, va. Non mi interessa proprio di sti animazioni farlocche. Però sono proprio sincero. Cioè, non di queste animazioni farlocche. In realtà, di queste... Di queste multi farlocche... Delle primissime, ecco, proprio. Mi scoccia soltanto. Ecco. La 700 pure. Certo, so di chi ci ha trovato roba in queste qui. E attenzione, assolutamente, però... Ok, cinque pod. Vediamo se succede qualcosa. Vediamo. Ma no, nulla che chiami Bardak, Trunks e tutto il resto. Quindi, vai. Super Vegeta, va bene. Ciao. Cabba. Vediamo. E le LF continuano, proprio in generale, continuano ad essere... Non presenti, non pervenuti all'interno di questo banner. Allora, prendiamoci il ticket subito. Anzi, guardate, fammo così. Continuiamo con le pull. Finiamoci questo giro. Dopo aver finito questo giro, basta. Continuiamo a pullare questa serie live. E... Nel caso non riuscissimo a trovare Goku Terzo, ovviamente. Poi, nel caso riuscissimo a trovarlo, non lo so, valutiamo. Però, finiamoci. Potrebbe essere Tapio, neve lo dico. Potrebbe, potrebbe essere Tapio. Potrebbe essere Tapio, ma non è detto. Vediamo. Goku Muichi è uscito così. Mi pare. Vediamo. Se da Legends Limited... Se da Legends Limited... Non succede. Non succede. Ma se succede... La madre è tutta extreme, mi sta da. C'è solo una Sparking qua dentro. O è Goku e Tapio, incredibile. È Tapio. Ok, era Tapio. Va bene, va bene, va bene. Oh, da che non mi ha dato minimamente alcun Tapio, All'inizio me li sta spammando e me li sta tirando dietro, adesso. Va bene. Siamo arrivati al... Quasi... 9k spese. 9k per il momento, se non sbaglio. Sì. 9000. Ah, ok. Va bene, va bene, va bene. Va bene, è una Instant Transmission. Quindi comunque abbiamo Sparking. Abbiamo Sparking. Se non dobbiamo avere LF o Goku terzo, dammi almeno... Oh, cici. Dammi almeno Tapion. Almeno il Tapione, così... Tapio non mi piace. Secondo me potrebbe... Potrebbe... Potrà avere, in generale, un bel futuro all'interno di questo gioco. Poi non lo so, staremo a vedere. Staremo a vedere, sicuramente lo proveremo a breve. Però... Però mi gusta, mi gusta, indubbiamente. Vediamo. Ultima multi, poi ticket e poi raga, andiamo in live. Se va in live. Vediamo, abbiamo uno spazio... Zero LF intanto, è zero totale, bro. Quattro non so, siamo in live. 5 Tapion Oh, spazio e ghiacciaio, niente lf Niente Detuarda, questa è una combo micidiale Spazio Più bardock Combo micidiale, questo deve essere per forza Goku terzo Ecco per l'appunto Goku terzo E invece no E invece no E invece no Alla grande Ho già visto però dice lo skip, è inutile che vi casate Guarda Voglio farmi solo Vediamo Dai, le classiche multi Comunque abbiamo raggiunto le 10k Eh, le classiche multi Fuori programma Ok Vediamo Le fuori programma Ma manca una lf, è possibile? Manca una Questo sempre perché io in Quanto è? In pochissimissime crono Trovo sempre tutto Eh, mi raccomando Trovo sempre la roba a 14 stelle Ma vedete quanti messaggi ho letto di questo tipo Blazia, al primo giro Già a 14 stelle Eh Eh Ah, voglio Ok Va bene No niente Ci volevo andare a far pull in live Abbiamo capito L'abbiamo capito un attimo tutti Ok Eh, poco male Poco male perché comunque Ci abbiamo qualcosa da fa' stasera Cioè così dai Questa qui è l'ultimissima E poi ci vediamo stasera Va bene Ultimissimissima È l'ultimo tentativo che ha i Legends Proprio l'ultimo per cacciarmi un LF Ok Vediamo Questa è piena, giusto? È la 10 Mi sa di sì Vediamo C'è una sparking di sicuro Ok, Goku Va bene Frisa Vediamo Qui c'è l'F Me lo sento Me lo sento Qui c'è l'F Qui c'è l'F E' lei Beh Beh, beh, beh Un pugno del drago sicuramente Era Ma non quello che aspettavamo Oh Darbula a 14 stelle Buono dai Ci può stare Ci può stare Ci può stare Ragazzi Questa qui quindi È stata La mia Prima pullata Sul gioco E Boh 72000 Quindi abbiamo speso in totale 12k All'incirca E non abbiamo trovato Goku 3 Ma non abbiamo trovato in realtà Manco un LF Minch c'ho il deal Coin Vediamo il ticket Vediamo un attimo Perché effettivamente Non lo ricordavo Su questo ticket Poi chiudiamo il video ragazzi E ci vediamo direttamente Questa sera Va bene Ci vediamo questa sera Perché continuano Assolutamente le pull Per provare a cercare Goku 3 Sfere del drago C'è lo skip Quindi manco ci interessa Almeno mi davo un altro tapion E godevamo C'era la goduria Ecco Ragazzi Grazie a tutti per aver visto questo video Io vi do appuntamento a questa sera Mi raccomando Va bene Non mancate Vi aspetto perché continuiamo le pull Ciao ragazzoli Salutone Grazie a tutti